Siete appassionati di enogastronomia? Vi accompagno a scoprire i segreti delle eccellenze italiane nel mondo. Interviste e storie sui luoghi, le ricette e i personaggi che ruotano attorno al vino e al cibo. Ogni sabato insieme a Candy Valentino sulla web radio senza barcode. Cari ascoltatori del gusto con Candy Valentino, siamo in autunno e ottobre è sicuramente il mese in cui i ristoratori italiani cominciano a proporre dei menù con tanti piatti con le castagne. Ma cosa sapete esattamente di questi frutti? Oggi voglio darvi qualche informazione sulle proprietà nutritive e le caratteristiche delle castagne. Parleremo della differenza tra castagna, marrone e ipocastano e poi parleremo con uno chef che ci darà qualche dritta sulle ricette da preparare per gustare al meglio questo alimento. Quindi rimanete con me fino alla fine e se volete leggere tutti i dettagli anche sulla storia e sulla diffusione delle castagne in Italia e in Europa non perdete l'articolo che ho appena pubblicato sul mio blog candyvalentino.it. Innanzitutto cosa sono esattamente le castagne? Si tratta dei frutti provenienti dal fiore che si trova all'interno della cupola la quale successivamente si trasforma in riccio. La castagna per la precisione si definisce una kenio e si compone delle seguenti parti. Il pericarpo di tipo liscio e coriaceo e di colore bruno scuro, la torcia che si trova all'apice e consiste nei resti degli stili e la cicatrice chiamata ilo che si trova alla base. A seconda della varietà la forma delle castagne può cambiare molto così come il numero di frutti e la loro posizione dentro al riccio. Avrete notato acquistandole che alcune sono più arrotondate altre più schiacciate. Di solito le castagne di forma emisferica sono quelle che si trovano in posizione laterale e quella schiacciata è quella centrale. I frutti di forma appiattita invece si chiamano guscioni e sono vuoti. parliamo della differenza tra castagna, marrone e ipocastano. Cosa li distingue esattamente? Innanzitutto un dettaglio importante che forse non tutti conoscono è che le castagne sono il frutto dell'albero del castagno, invece l'ipocastano è il seme contenuto all'interno dei frutti dell'albero di ipocastano e non è comestibile. Spesso si fa confusione anche tra castagna e marrone che rimandano in realtà a due specie ben differenti di acheni. Una delle proprietà che li differenzia in particolare è che nella castagna la percentuale di frutti settati è maggiore del 12% rispetto a quella presente nei marroni. In Italia con il termine marrone si fa riferimento anche a particolari cultivar di ottima qualità con frutti che risultano molto adatti alla canditura. Forse oltre a questi tre termini vi sarà capitato di sentire tanti altri nomi per riferirsi alle diverse tipologie e varietà di castagne. Infatti ne esistono davvero molte e cambiano in base all'altezza in cui si trovano le coltivazioni, al clima e anche alla flora circostante. Tra i tipi di castagne più conosciuti ad esempio ci sono il marrone, il torcione, la loiola, la valcamonica, la neiranda, la pastinese, la ciria, la carpinese, lizzanese, agostana, alotta, rossera, bellina, invernizza, raggiolana, verdesa, frambola e pistolese. Questi sono solo alcuni, c'è veramente un elenco lunghissimo. Ad alcune varietà regionali di castagne poi l'Unione Europea ha attribuito dei marchi di tutela. In Italia ad esempio abbiamo il marrone del Mugello IGP, la castagna di Montella IGP, a Montella si fa anche una sagra molto conosciuta di cui parleremo più tardi, la castagna di Valerano DOP, il marrone di San Zeno DOP, quello della valle di Susa IGP, i marroni Piceni che è un marchio collettivo e molti altri ancora che ho elencato sempre nel mio articolo su candyvalentino.it e dei quali vi ho riportato anche le date di registrazione del marchio. Insomma ci sono davvero tanti nomi, tante varietà, DOP, IGP e questo ci lascia pensare che questi frutti abbiano una storia davvero lunga. La tessera senza barcode significa consapevolezza di non essere tutti uguali ma di avere tutti gli stessi diritti. Un giornale online per sapere, una web radio per parlare e un'associazione per promuovere il talento, per il diritto all'informazione e il diritto alla conoscenza. Così Sheila, il presidente di Senza Barcode, presenta la nuova tessera associativa per il 2020. Questa tessera garantisce la partecipazione gratuita a tutti i concorsi e uno sconto particolare nei corsi contributo organizzati da Academy e dal Lab Senza Barcode. Un canale preferenziale nella nostra collana editoriale e la partecipazione gratuita alla rassegna letteraria 6 Senza Barcode per la presentazione di un libro su Roma. Ogni evento viene studiato nei minimi particolari per far risultare al meglio il libro e l'autore. Sono tante altre le attività ed è per questo che invito all'iscrizione visitando il sito www.associazione.senzabarcode.it. Io sono Emanuela, responsabile dei nuovi iscritti e della gestione dei concorsi. Puoi scrivermi a manu-chiocciola-senzabarcode.it o chiamami al numero 351-750-7873. Senza Barcode, per gente non omologabile. Go to fly! Come sapete, mi piace sempre parlare un po' delle origini degli alimenti tipici della gastronomia italiana e ho indagato anche sulle castagne per scoprire qualche curiosità sulla loro storia. Gli studiosi hanno individuato la presenza di una cenosi di castagno che risale a circa 10.000 anni fa nella parte più protetta delle Alpi Apuane. Molte testimonianze scritte lasciano intendere che le castagne fossero conosciute fin dall'antichità in Grecia e nell'antica Roma. Gli iscritti di Plinio il Vecchio in particolare ne confermano la diffusione in Italia e proprio questo autore si sofferma anche sulla descrizione dell'utilizzo del frutto in cucina e sulla modalità di conservazione. Nel Medioevo le castagne italiane divennero apprezzate anche all'estero. Nell'edizione del Cri de Paris del 1486 riguardo a questi frutti si legge che le varietà provenienti dalla Lombardia erano le migliori disponibili sul mercato, quindi molto note già anche all'estero. Parliamo invece della castagnatura, ovvero della raccolta delle castagne che avviene in diversi momenti dell'anno a seconda delle regioni e delle aree geografiche. In Italia in genere la raccolta comincia verso la fine di settembre. Le principali tecniche di castagnatura originali erano la bacchiatura, una tecnica praticata nel Medioevo con la quale i cardi non ancora maturi, caduti a terra dopo essere percossi con dei pali, venivano raccolti con delle pinze di legno e posti in un locale per poi far uscire le castagne battendoli. L'essiccazione è un precedimento attraverso il quale le castagne venivano essiccate al fine di ridurle a farina. Se si trattava di piccole quantità si facevano essiccare stendendoli al sole sulle terrazze. Per quantitativi più rilevanti si utilizzavano gli essiccatoi che si trovavano in molti casi in casa, nelle abitazioni private. E poi la battitura o anche pestatura, ci sono due termini con i quali ci si riferisce a questa tecnica, ed è un procedimento con cui avviene la sgusciatura delle castagne e può variare di zona in zona con l'utilizzo anche di diversi strumenti. Oggi tutte queste operazioni che in passato duravano un'intera nottata vengono effettuate con delle macchine, quindi chiaramente il processo si è velocizzato. Veniamo invece alle feste e alle sagre a cui accennavo prima. Ce ne sono tantissime dedicate alle castagne e in queste occasioni è possibile mangiarle cotte in tanti modi diversi, utilizzate nelle ricette più sfiziose. In Italia tra le più conosciute e tradizionali ci sono ad esempio la sagra della castagna a Soriano nel Cimino, quella di Calvanico, la sagra della castagna di Arpaise e quella di Fontanelli e poi anche tante sagre dei marroni magari presentati insieme ad altri prodotti tipici dell'autunno, tutte organizzate nei mesi di ottobre e novembre. Bene vi avevo promesso per concludere una ricetta e quindi vi faccio ascoltare cosa suggerisce lo chef Roberto Campitelli per questo autunno. Allora sono con lo chef Roberto Campitelli di Osteria Monteverde a Roma. I romani sono pastari, amano mangiare la pasta, però noi siamo in stagione di castagne, allora io ho pensato di chiedergli proprio in che modo si sfruttano in questo momento in un'osteria romana le castagne con con i primi piatti. Allora un piatto che va innanzitutto ben trovata, grazie, buonasera e sì a parte le paste che vanno tantissimo però per fortuna la stagione che ci regala a volte degli ingredienti che possono essere anche usati in altre forme per piatti per proposte magari anche da pranzo, insomma comunque uno deve pensare che spesso il mangiare è diventata sì un'esigenza, quindi c'è bisogno di nutrirsi bene, avere il giusto rapporto calorico ma non sempre che sia buffata. Un piatto che adesso va per la maggiore in accoppiata con la zucca che è un'altra grande protagonista di questo periodo, è una vellutata appunto di zucca con delle castagne arrostite, spellate e condite con un po' di olio, sale, pepe e rosmarino usate quasi a modi i grossini dei pane così queste castagne diventano vere protagoniste perché non sono sminuzzate, tritate o tagliate ma c'è proprio il bel castagnone di questo periodo intero accuratamente pulito così c'è un bel morso e ti assapori proprio insomma la castagna. Fantastico, è un piatto anche adatto ai vegani giusto? Questo l'abbiamo inserito nel menù anche perché si presta benissimo per i vegani vegetariani insomma può essere un primo piatto un antipasto sostanzioso magari un fine pasto più sfizioso. Bene, la castagna per capire da quanto tempo viene sfruttata nella nostra tradizione che ricordo io va bene nel mio locale che sono dieci anni che abbiamo aperte e ottobre puntualmente qualche piatto con la castagna esce fuori l'abbiamo lo facciamo insomma e l'abbiamo usata molto come sempre in terra arrostita poi frullata e setacciata per per fare una farina che abbiamo usato per insaporire gnocchi di patate magari o paste paste all'uovo perché usava interamente una farina delle castagne darebbe un sapore allappante alla pasta invece come condimento come supporto è molto valida tagliata togliamo quel sapore che può essere un po astringente e lasciamo soltanto il bello insomma il profumo il morso e la purezza insomma della castagna va bene grazie mille grazie a te siete appassionati di enogastronomia vi accompagno a scoprire i segreti delle eccellenze italiane nel mondo interviste storie sui luoghi le ricette dei personaggi che ruotano attorno al vino e al cibo ogni sabato insieme a candy valentino sulla web radio senza barcode